Musica Musica Hey Omede, beh avevi detto che volevi portare degli amici tuoi qui allo stadio di Lecce Oggi ci troviamo proprio al Via del Mare. Mi parli un po' di questi amici tuoi. Sì, fanno parte di due gruppi, di due associazioni. L'associazione Casa Famiglia Camminare Insieme di Castri e il gruppo Anyway a Cessa Lento. Sono delle realtà presenti sul territorio di Castri, si occupano di volontariato, di disabilità. E per me è stata un'occasione per poter condividere con loro, che amano il calcio un po' più di me, l'incontro con i giocatori e la visita qui allo stadio, che per me è stato come per loro la prima volta entrare in un campo di calcio a contatto proprio con l'arena dove si esibiscono i giocatori. E stare qui seduto in panchina dove loro siedono è un'emozione molto forte che a me. Sei emozionato? Sì, molto. Io pure. Va bene, adesso andremo a fare un giro dello stadio. Ci sei? Ci sono e ti ringrazio per questa possibilità. Io sono Fabrizio e voglio chiedervi il vostro nome. In generale che lavoro fate? Beh, grazie a Dio facciamo un petto. Come ne vuoi. Io sono Cio Anton, mi sono Benassi, fortieri, non sembra, eh. Il basso, piccolo. Sono Manel e volevo chiedervi perché siete arrivati in C? 16. Purtroppo sono successe delle cose brutte in questo calcio, però non è stata colpa nostra, quindi noi abbiamo preso questa notizia a ritiro, una grandissima tristesa, però sono andati così, quindi adesso dobbiamo lottare per tornare. Dove? Prima in Serie B e poi in Serie A. Come che all'inizio vinsevate e ora perdete sempre? Purtroppo è ben certo, abbiamo iniziato benissimo. In un campionato diverso che non è facile, sembra facile. Per chi va in campo non è, o giochi in Serie A, B o C, non vuol dire niente. Anzi, in Serie C è più difficile perché quando giochi contro lecce, che giochi con qualche giocatore che ha giocato, prima giocava in Serie A, uno dà il 1000%, che è giusto che sia così. Sì, però noi che scendiamo in campo lo saperevamo anche dall'inizio, che di avere una buona squadra, però non è di stravincere il campionato, perché voi lo sapete meglio di me, perché nella vita niente è facile e nessuno ti legava a niente. Quindi non è che pensano andare in campo e vincere tutte le partite 5 a 0, magari fossimo, è dura. Voi siete campioni nello sport, consentitemi di dire che questi ragazzi sono campioni di vita. Per voi, giocatori e giornalisti e cose varie, il lavoro vostro è come si svolge, più o meno. Prima era cominciato da piccolo, stavamo parlando, era cominciato come un sport, poi quando ho capito che avevo la possibilità di questo bellissimo sport, farlo come lavoro, l'ho fatto. Adesso, già che sono un po' più grande, lo faccio più per amore, in questo caso qui a Lecce, lo faccio più per amore e per divertirmi, ormai cerco di divertirmi. Oltre a Lecce, a quali squadre avete giocato? Io ho giocato con Moffa nel Lecce, poi sono andato a Monaco, dopo a Siviglia, dopo ho giocato sei mesi in Atalanta. Sono tornato a Lecce, dopo sono andato in Argentina, al Collone di Santa Fe e quest'anno ho girato un po'. Ho girato un po'? A me c'era De Canio, io venivo da un fallimento del Perugia, che era mia società, era fallita tutta la mia società, e c'è stata la possibilità di venire qui, qui a Lecce, in Serie A per me era il primo anno, quindi fare il doppio salto dalla C a là, come dicevo prima, il sogno che si realizza. Due volte non ci credi, no? Invece fortunatamente stanno così. Stefano Antonio, ancora di fortunato? No, io c'era quel periodo bruttile ho passato, sto bene, mi sento bene, il mister è quello che decide, cerca di... Ancora no, quindi sì, ho giocato la Coppa Italia, ho giocato 15 minuti in ultima partita, quindi l'alteriore a quest'ultima, quindi sono gente che fa l'allenatore e che li vanno rispettati, perché lui vuole qualcosa di migliore per la squadra, l'importante è che lei che stai in Serie B, poi vettigiamo tutti insieme. Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao!